L'ospedale Rizzoli di Bologna, Massimo Bonini, operato mercoledì al ginocchio, è l'emblema di un Bologna perseguitato dalla sfortuna ma che non si arrende. No, non si arrende perché mancano ancora tante partite e poi ci possiamo ancora venirne fuori. È logico che sarà molto difficile e dovremo lottare fino all'ultima giornata, fino all'ultimo secondo. Però anche oggi è dimostrato alla squadra che non vuole mollare. Lo spirito di gruppo costruito da radice al Bologna si estende come avete sentito anche agli ospedali dove insieme a Massimo Bonini sono alcuni dei suoi uomini più importanti, Detari, Poli e ora pure Tricella. Da oggi il Bologna è anche senza direttore generale essendo stato sancito il divorzio con Riccardo Sogliano. Ai superstiti il compito di fronteggiare il Milan campione del mondo, compito assolto con piena sufficienza al di là del risultato. E questo, nonostante un preciso suggerimento di Franco Baresi dopo appena otto minuti, abbia mandato Gulli in gol. Un gol che deve aver fatto credere a molti milanisti di avere ormai la partita in pugno. Gigionando in campo senza più ritmo, il Milan ha in realtà evidenziato la giornata no di molti suoi campioni. Van Basten, soprattutto, e Donadoni ancora lontano dai suoi livelli. Così, anziché infliggere il colpo del capò, il Milan ha registrato con sufficienza la crescente iniziativa del Bologna, interrotta soltanto da un calcio di punizione battuto da Gulli e alzato da Cusin oltre la traversa. Sinché il Bologna è pervenuto al pareggio, grazie proprio al marcatore di Gulli, Biondo, lesto a inrompere sui Pazzagli, la palla è finita a Turchi-Lmaz per il suo terzo importante gol in campionato. Poco dopo, Costa Curta ha messo lo stesso Turchi-Lmaz in condizione di raddoppiare. Pazzagli ha dovuto salvare in alto. Il soprassalto milanista si è esaurito in pochi minuti. Rijkaard ha avuto la palla buona, ma Cusin in uscita lo ha neutralizzato. Ancora minore mordente milanista nella ripresa, col Bologna ovviamente più raccolto, puntigliosamente impegnato su ogni palla. È un pareggio prezioso per la squadra di Radice, gioco forza accettato anche da Arrigo Sacchi.